Non soltanto appartamenti, ma anche cortili, cantine, porticati, tutto ciò che può essere trasformato in casa è facile preda di persone pronte a tutto pur di trovare un tetto. Accade a Soccavo, rione nato nei primi anni 60 con i fondi della Cassa del Mezzogiorno, è oggi scenario di un abusivismo dilagante. Qui gli alloggi comunali sono in molti casi gestiti dalla Camorra, che arriva a requisire e subaffittare i locali dei legittimi assegnatari. Per questi ultimi non c'è più pace, basta allontanarsi qualche giorno dalla propria abitazione per ritrovarsi in strada con la serratura cambiata e degli sconosciuti in casa. Oppure lo scantinato occupato dai migrati, pronti a pagare profumatamente per vivere nei sottoscala. Dal 2007 un comitato civico per la legalità, che conta più di 100 iscritti, a Soccavo si batte per difendere i diritti di chi rispetta le regole e vuole vivere serenamente il proprio quartiere. E contro il fenomeno dell'abusivismo partenopeo, che risale all'epoca post-terremoto, quando le case del comune vennero prese d'assalto, è già al lavoro il neo-assessore al patrimonio del comune di Napoli, Bernardino Tuccillo, che ha avviato un'attività di verifica sul territorio. Intendiamo fare piena luce, attraverso questa attività di verifica e di ricognizione impegneremo l'ufficio noti della nostra polizia municipale, chiederemo altresì al comitato provinciale per l'ordine e per la sicurezza di riunirsi per dare ricorso ad un ampio programma anche di liberazione degli edifici, degli alloggi del nostro patrimonio di edilizia residenziale pubblica, affinché essi siano consegnati ai legittimi assegnatari, affinché si contrasti in maniera efficace il fenomeno delle occupazioni abusive, che è un fenomeno che risulta davvero ancora più grave ed allarmante se si pensa che in parte chi occupa abusivamente questi alloggi nei rapporti con la criminalità organizzata.